Nel fine settimana a Pordenone tornano Cucinare e Stars Cooking, mentre a Camogli si celebra anche a Tavola San Valentino, così come a Terni che ospita Cioccolentino. Nella vicina Spello invece Festa dell'Olivo e della Bruschetta. Da domani al 18 quasi tutti i consorsi della Toscana presentano in anteprima i propri vini, alcuni a Firenze e altri nei territori di produzione. Domenica a Monteveglio serata di Gustacinema che poi prosegue in Valsamoggia fino al 25 marzo. Sempre domenica primi eventi del Carnevale di Putignano che prosegue fino al 28 all'insegna della Farinella. Dal 14 in Trentino torna fino a metà marzo Happy Cheese. Mercoledì a Roma si festeggia il ventennale della Docigi Gemme e giovedì sempre nella capitale tornano fino al 19 i migliori vini italiani secondo Luca Maroni. Infine è in corso fino al 9 aprile fra Lodi, Cremona e Piacenza la rassegna gastronomica un po' della bassa. E ora la controcopertina.